Salve a tutti carissimi, bentornati come sempre in questo nostro spazio di riflessione e condivisione. Non so se sentite questa rietta frizzante, questa atmosfera natalizia di pace e d'amore, proprio c'è gioia, sento i cuori gonfi, ma proprio gonfi di gioia. Sentite anche voi tutto ciò? Perché secondo me più che altro c'è gente con qualcosa di gonfio, ma non sono i cuori. E quindi quest'oggi desidero un po' in maniera molto ironica, sapete che ormai seguo più la via di crozza, che non si può più prendere seriamente tutto ciò, con ironia, con leggerezza, proviamo a fare una comparazione tra la società e la spiritualità che ci viene offerta oggi e ciò che ci stanno sottraendo e ci stiamo lasciando fregare, così, come degli sprovveduti. Quindi fra un secondo parliamo di una strana nuova grotta dove nasce il re dei re, solo che è in titanio e c'è l'antenna 5G sopra. E poi riguardiamo un secondo la grotta vera, la grotta del cuore, dove c'era Gesù. Sigla e poi ne parliamo. Allora, stavo cercando un biglietto per scrivere degli auguri e volevo che il biglietto avesse stampata l'immagine di Gesù. Vi ricordate i biglietti di una volta quando eravamo piccoli? C'era la stella cometa, i re magi, la grotta? Zero! Cioè, Babbo Natale, alla fine questa era la cosa più bella. Questa era la cosa più bella. Babbo Natale, Babbo Natale, stelle, luci, nastrini. Gesù, Gesù, c'è più, come dicevo mio amico. Non c'è più. Esco, accendo la radio e ci sono due persone che starnazzano, si offendono. Tu non credi, tu non credi. Ho detto, mio Dio, un dibattito sulla fede. Dopo un attimo sento, tu non credi nei vacui? No, ho detto, anche qui. E lì, praticamente, ho sradicato la radio, lo getta. No, l'ho spenta, perché... Non se ne esce più. Allora, con questo clima così natalizio, questo poi avevo appena letto il giornale, lo so, tutte cose sbagliate che non vanno fatte. Allora ho avuto un'immagine della nuova società. Cioè, voi ditemi un po', se mi sbaglio, ma ho pensato, la maggior parte delle persone riuscirebbero di più a credere ad un nuovo racconto. Magari con qualche similitudine all'originale, alla nascita del Cristo. Però ho sentito un po' un nuovo racconto che mi è apparso così come un incubo, però non so quanto incubo sia. Allora, perché la stella cometa, questa cosa naturale, i re magi erano degli astrologi, sapevano leggere i segni dell'universo, delle stelle, e le stelle, pensate a questa bellezza dell'antichità, si narra anche del Buddha, che un astrologo andò e predisse la nascita di un'anima illuminata. Allora c'è questa saggezza profonda che dice, guardate che nemmeno le stelle sono slegate da fatti così giganti, importanti. Brilla una stella nel cielo quando nasce una luce immensa di coscienza fra gli uomini. Quindi pensate noi che ci sentiamo così miserabili, così piccoli, la tradizione, il misticismo, questa profonda unità con la natura e il sacro, ci dice, ma state scherzando? Le stelle stesse scrivono la storia delle luci giganti della coscienza. Bellissimo, meraviglioso e reale dal mio punto di vista. È che non sappiamo più leggere le stelle. No, le leggiamo però attraverso tutta la scienza. Allora mi sono pensato un po' a questi remagi d'oggi, ma figuratevi se leggono le stelle e sanno se nasce un'anima benedetta da Dio o il figlio unigenito di Dio. Ma cosa fanno? Secondo me vedono, passa un satellite Starlink lanciato da Elon Musk e sotto abbiamo i nuovi tre remagi, personaggi tipo Kolao, Cingolani, eccetera, che con super tecnologia 5G geolocalizzano il re dei re e vanno ovviamente a cercare il nuovo messia. Il nuovo messia viene trovato, ha l'antennina 5G, 6G sopra la grotta, probabilmente è una grotta, non lo so, in titanio, eccetera. E prima cosa, beh, la verginità non è più un dogma, la verginità è un fatto scientifico, perché sapete che l'Unione Europea ha investito milioni per le incubatrici, questi uteri artificiali capaci di generare la vita, di far crescere un bambino in situazione totalmente extrauterina. Feci un video completo, dettagliato, su questo sogno gigante del transumanesimo che oggi viene spacciata questa tecnologia, questi grandi investimenti, come un qualcosa utile a salvare i bambini prematuri. Quanto prematuro devi essere? C'è uno spermatozoopratico, dobbiamo salvare gli spermatozoi, ecco, va bene. Allora, ho pensato che questo bambino nemmeno ha una mamma, non c'è nessuno lì dentro, non c'è la mamma, non c'è il papà, non c'è il bue e l'asinello, perché sapete, il bue e l'asinello mollano le scoregge e c'è la tassa sulla CO2, quindi, ma perché avere il bue e l'asinello? C'è l'incubatrice, c'è l'utero artificiale e arrivano i nostri remagi, il buon Cingolani, l'Ecolau, e c'è, beh, ci sarà un altro CEO, che ne so, magari della Pfizer, ci sta. Arrivano e cosa gli portano in dono? Oro, incenso, mirma, figuratevi, portano in dono, bah, algoritmi, intelligenza artificiale, intelligenza delle cose, cose che il bimbo già sa, però loro portano in dono alcune cose in modo che un po' si impratichisca. Poi, facendo un parallelismo, non sappiamo bene dove andrà a finire questo bimbo, cosa farà tra i primi anni, abbiamo pochi, pochi cenni sui primi anni e poi riappare intorno ai 30. Però, in questo caso, un'idea ce la possiamo fare. Che fa dagli 0 ai 30 per crescere bene? Eh, ovviamente frequenterà posti tipo il forum di Davos, l'open society di Soros, ma non lo so, la Bill & Melinda Gates Foundation, andrà magari a lavorare un pochino, come fai a non lavorare un po' per la Goldman Sachs e questi luoghi proprio dediti alla filantropia. E sostanzialmente sarà un filantropo formato dai filantropi del nostro tempo. Arriva a 30 anni e vai, e inizia la stagione dei miracoli. Sostituirà gambe agli infermi con microchip nel cervello, gambe artificiali, sostituirà occhi, quindi farà rivedere i ciechi, moltiplicherà i pesci con le stampanti digitali, la carne, stampanti digitali. C'è gente che non crede a ste cose, perché se la TV non l'ha detto su RaiU, cioè, fanno già carne artificiale attraverso stampanti artificiali. e questo, quindi, non sto dicendo cose, perché qualcuno potrebbe pensare, mamma che immagino il Ren. Ecco, rendetevi conto, soprattutto voi che non credete, non tanto alla scienza, ai vaccini, ma quel che alcune persone vi dicono. Guardate che questo è il mondo che vi stanno per offrire. Ecco, allora così questo Messia fa cose belle e tutte provate scientificamente. C'è una cosa che però non so se sentite quanto manchi. Non c'è l'amore. Non c'è il sacrificio, il significato. C'è un vivere per vivere. C'è una tecnologia che permette ad alcuni di avere un potere smisurato, di vivere per vivere ad oltranza. Allora mi sono immaginato anche quest'uomo che l'ultima cena quando la farà? A 33 anni? Ma no, questo a 3.300 sogno del transumanesimo è vivere all'infinito, l'eternità. O decidere quando andarsene, ma questi non se ne vanno mai oltretutto, è quello il problema. I giusti se ne vanno molto presto perché accumulano, soffrono, ma chi se ne approfitta degli altri proprio ha un sistema immunitario particolare, lo colpisce, il virus più potente del mondo non succede niente. Poi i bambini di un anno o due ci dicono che arriva il virus tutti morti. Allora, intorno ai 3.000 anni fa l'ultima cena e nell'ultima cena cosa distribuisce? Prende il farmaco, il nuovo farmaco, Pfizer, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli e dice questo è il nuovo vaccino offerto in sacrificio per voi, per l'eterna vita. Perché non bisogna morire, cioè l'unica cosa di cui si occupa questo nuovo messia è non far morire ma i suoi discepoli ovviamente. Tutti gli altri pensavo, in questa mia visione terrifica, tutti gli altri prima se ne vanno, meglio è. Oltretutto scaccia i demoni, fa esorcismi, stavo pensando in questo nuovo mondo, questa nuova normalità, chi sono gli indemoniati? Ci ho pensato un attimo e ho detto i no-vax. Cioè, sti soggetti bizzarri messi all'interno di questa categoria che, ad esempio, credono nella medicina omeopatica, nella meditazione, nella coscienza profonda, nello spirito, nel divino. C'è qualcosa di sacro e divino nell'uomo. No, dice questo profeta. Divino è il padre mio che mi ha dato la scienza, non l'amore. Deus carita sest. No, la scienza, con l'H ovviamente. E chi è? Allora, scusate, ma qua, blasfemia. Cioè, questo nuovo messia non prega Abba, come faceva Cristo. Il papà, lo chiamava papà. Cioè, Dio, l'assoluto, lo chiamava con amore, come se fosse una relazione profonda d'amore, Abba. Il nuovo messia, chi invoca? Schwabba. Schwabba. Invoca Schwabba. Schwabba, tu che mi hai dato una visione fantastica, il grande re Esset, questo nuovo mondo dove saremo ibridati con le macchine e avremo dei cipi nel cervello. Fantastico. Questa è la nuova normalità. E quello che ci stanno sottraendo è la vera storia di un re, il re dei re, che nasce in una grotta ed è meravigliosa quella storia, che dal mio punto di vista è reale, è storia, fattuale, cosa accaduta, e tutto ciò che accade all'esterno è specchio della realtà interna. Perché il re dei re non è arrivato su una navicella col 5G e l'antenna 5G in testa, ma è in una grotta con un bue e un asinello, mamma e papà, e arrivano i magi, gli astrologi del tempo, che leggono le stelle, il movimento dell'universo. È meraviglioso, c'è un senso di armonia, di potenza, di unità. È una cosa fantastica. E la semplicità non nasce in un palazzo ricco, potente, nasce con l'amore. Cioè, questa è la cosa gigante, secondo me, del Natale. Se entriamo nel cristianesimo, nel cuore del cristianesimo, cioè nel cuore di quella grotta, la grotta del cuore. Poi sapete che ogni tanto faccio voli, potrei vedere cose meravigliose, che ci sono state passate dal buddismo, ma siamo vicini al Natale cristiano. Allora, in quel luogo, in quella povertà apparente, c'è l'essenziale. Per quello è così povero, perché le cose esterne possono offuscare. E come ho detto mille volte, beati poveri in spirito, non è povero di povertà, cioè la mancanza di cose non è quello che oggi noi chiamiamo povertà come dispregiativo, anzi, a volte è un qualcosa di essenziale, ma non fa parte della filosofia di oggi, cioè non avrai nulla e sarai felice, che è una sottrazione che lascia le persone all'interno di un sistema di controllo. No, lì c'è una povertà naturale, c'è una scelta di povertà, c'è una povertà naturale che è un qualcosa di essenziale, perché poi il Cristo con la sua famiglia, Gesù, si muove da Betlemme e poi torna a Nazareth dove lavora e lavora per trent'anni sereno, è un falegname, un carpentiere probabilmente e lavora, ma non è ricco e potente là fuori, nelle cose del mondo, negli affari, nella politica, no, ha una potenza smisurata ma è l'amore, è il contatto con la parte più naturale dell'essere, noi non conosciamo più la naturalezza dell'essere che è amore, nei Vangeli vorrei fare questa sottolineatura per chiudere, poi magari ci torneremo in questi giorni, non lo so, perché nei Vangeli c'è una specie di sillogismo fantastico che se lo leggiamo dà un risultato, è una formula matematica, Gesù ci dice che Dio è amore e ci dice che solo chi fa la volontà di Dio è suo fratello, è sua madre, è suo padre, perché ad un certo punto nei Vangeli se vi ricordate arrivano sua madre e i suoi fratelli di Atriba e i fratelli sono i veri fratelli o non so perché cose sciocche, arriva la madre e i suoi parenti chiedono di parlargli e lui dice questa frase ruvida, sembra una frase anche brusca, dice chi sono mia madre, i miei fratelli, i miei parenti se non chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli? questo passaggio secondo me va ben capito perché la volontà del padre non è separata dalla natura del padre perché ecco il sillogismo che passa la formula matematica il Cristo nei Vangeli dà un unico comandamento io vi do un unico comandamento che voi vi ammiate gli uni e gli altri come io ho amato voi quindi la volontà del figlio che rispecchia la volontà del padre è l'amore la natura di Dio è amore e la volontà del padre è che ci si ami come Cristo ha amato tutti i Vangeli se guardate sono l'esemplificazione dell'azione pura d'amore al punto che giunge al sacrificio della sua vita poteva poteva ribellarsi poteva chiedere ai discepoli di combattere poteva fuggire no ed è lì che ha senso l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo è un agnello sacrificale è innocente e offre la testimonianza dell'innocenza ma non è una testimonianza parole lo fa con i fatti perché il suo essere è in contatto con il sacro il divino con Dio con Dio dalla radice sanscrita dev luce è in contatto con la luce io sono la verità la via la luce la resurrezione non sono storielle per quello quando la chiesa entra a gamba tese e dice dovete credere o almeno una certa chiesa un clericalismo rovina tutto no c'è un messaggio esoterico mistico reale devastante distruggerebbe questo mondo le antenne 5G cioè voglio dire ragazzi provate ad immaginare un esercizio un percorso di vita che purifica la mente il cuore e fa emergere questa presenza il divino che c'è in ognuno di noi infatti nei Vangeli non ce lo dicono mai perché non è bella quella parte dove dice e farete cose anche più grandi di me io e voi siamo uniti se siamo uniti alla sorgente la fede è necessaria per sciogliere la mente e il cuore fede e meditazione per dire solo la stessa cosa quando mediti lasci morire la mente devi abbandonare la mente e l'ego la mente e le emozioni che costruiscono l'ego la fede rimanere nel silenzio nell'ascolto avere fede sentire la presenza è una forma di meditazione o la meditazione è l'altra faccia della fede solo due modi di declinare la stessa azione dal mio punto di vista ecco allora che abbiamo un cammino reale una direzione pratica psicologica interiore che ci porta intanto ad una conversione perché si va dall'esterno verso l'interno l'energia si converte cambia direzione non è che mi converto sì credo credo e basta nessuno legge il testo io credo mi sono convertito c'è una conversione di energia è un fatto empirico pratico e questa conversione porta a nascere come dicono gli induisti due volte c'è una seconda nascita la prima è del corpo la seconda è nello spirito infatti Cristo battezzerà con lo spirito con il fuoco lo spirito non con l'acqua perché rispetto al battista che semplicemente vedeva la strada ma non aveva realizzato quell'unità Gesù è colui che ha realizzato quell'unità e dice ai suoi discepoli seguitemi fate la stessa cosa e potrete realizzare quel che ho realizzato io l'unità con il sacro con lo stato naturale dell'essere con termini un po' più moderni lui ha usato abba papà padre perché è una simbologia adatta al tempo alla cultura del tempo però è questo che ci stiamo lasciando sottrarre che poi una persona declini tutto ciò più dentro la tradizione sentite che io barcollo oscillo un po' in giro per le tradizioni spirituali dal buddismo all'induismo ma ci stanno distruggendo lo spirito la vera religione cioè il religere le anime allo stato naturale dell'essere perché tutta questa cacchio di tecnologia io non avrei nulla contro un certo livello di tecnologia ma sentite che è devastante a niente lo spirito e la psiche degli individui perché vuole sottrarre quella connessione perché l'uomo connesso al sacro non accetterebbe questo tipo di esplicazione della tecnologia dominante aggressiva violenta che fa morire l'amore Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i morti sono coloro che semplicemente vogliono sopravvivere che è l'essenza del transumanesimo vivere per vivere ha giusto sistema aggancia un pezzo ma dov'è l'amore che significato hanno le nostre relazioni niente non c'è più lo si sente la scuola eh dobbiamo insegnare i giovani a gestire la complessità del mondo digitale ma non dovremmo insegnare i giovani ad essere felici a conoscere le parti più profonde della coscienza ad amarsi non dovremmo amarli amare i giovani e allora chiudo così lanciando un'ultima provocazione cioè questi mi parlano di chip impiantati nella testa intelligenza delle cose intelligenza artificiale nanobot nanani di qua nani ballerine e poi noi siamo in una crisi dove non abbiamo cioè l'energia costa sempre di più il cibo costa sempre di più c'è gente che non sa non sa come pagare la bolletta del gas di quest'anno lo capite che non c'è un'intenzione amorevole stavano meglio i romani 2200 anni fa 2000 anni fa l'impero romano aveva costruito qualcosa di più abbiamo i loro acquedotti che stanno ancora in piedi qua l'acqua delle falde della mia provincia è piena di fas è inquinato tutto non è stata utilizzata la tecnologia per integrarsi con la natura e integrare l'uomo c'è un'unica visione una visione olistica e questa cosa che ci stanno offrendo questo mostro che vi ho descritto questo nuovo re del mondo che sembra più satana che dobbiamo rifiutarlo totalmente che non significa rifiutare la tecnologia significa riportare al centro il sacro cioè l'essenza più vera dell'essere umano che è connessa con il divino ed è amore Deus Caritas Est quando riportiamo al centro quello poi possiamo anche gestire eventualmente le tecnologie ma adesso siamo andati talmente estroversi ci siamo talmente alienati che se continuiamo a perseguire la tecnologia senza convertirci verso l'interno verrà fuori un disastro anche perché questi nuovi messia sono tutti dei disperati dei pagliacci non c'è amore non si vede e stanno lobotomizzando milioni milioni di persone brothers I love you ci vediamo al prossimo scrivetemi qua nei commenti abbiamo fatto un viaggio incredibile non lo so forse qualcuno mi penserà pazzo che ho bisogno di un esorcismo ci vediamo al prossimo video e magari torneremo un po' più in profondità in queste cose un carissimo abbraccio ciao a tutti grazie a tutti